E dopo Roma e Monaco di Baviera fa tappa a Brescia Genius & Design, la mostra itinerante dedicata alla progettazione industriale del Made in Italy. L'esposizione racchiude alcuni tra i pezzi di design più significativi della storia industriale italiana e sarà visitabile gratuitamente presso l'Urban Center di Brescia via San Martino della Battaglia 18. Partiamo da Brescia come nocciolo duro della produzione, ma non è solo una mostra di design, è una mostra, l'abbiamo chiamata appunto Genius & Design perché parte dalle teste, dalle idee. Tanto è vero che abbiamo oggetti di design datati come le lampade della Flos, piuttosto come la Bialetti, ma abbiamo anche progetti di gruppi di ricercatori, ce ne sono un gruppo proprio qui adesso e hanno brevettato un intonaco antisismico. Quindi ci sono anche queste cose, quindi la genialità diciamo. L'iniziativa è realizzata dall'associazione Genius & Design e dopo Brescia farà tappa anche a Dubai e Singapore. Nei pomeriggi dalle 15.30 alle 17.30 inoltre laboratori gratuiti per bambini delle elementari, protagonisti della mostra non soltanto i pezzi di design ma i tanti giovani che hanno collaborato all'allestimento. Di categorie ci sono oggetti per la casa perché ci sono lampade, ci sono poltrone, abbiamo delle cose molto particolari di abbigliamento, ci sono delle ragazze che hanno una sartoria teatrale, che fanno i tutù e hanno inventato la pelliccia estiva fatta tutta di tulle, sono delle giacchette meravigliose, coloratissime, quindi abbiamo di tutto un po'. Grazie. Grazie.